La terza volta che porto i miei studenti, delle mie classi a vedere questo spettacolo perché secondo me è un'opportunità per capire che cosa vuol dire quando si seguono le proprie passioni. Una persona come Ondina che ha avuto tante, come si vede anche nel spettacolo, tante difficoltà, tanti momenti in cui avrebbe potuto rinunciare ad alcune cose, invece lei credendoci per la sua passione è andata avanti a farlo e a superare i suoi ostacoli. Quindi secondo me è una metafora proprio della vita, dell'adolescenza ma anche dopo, di come bisogna in qualche modo credere nelle proprie cose e continuare a superare i propri ostacoli. Poi soprattutto secondo me adesso che si parla tanto di genere, gender, differenze e tutto, qua si vede la voglia di una condizione in cui nel suo periodo le donne non potevano praticare sport ma dovevano semplicemente fare solo attività diciamo di casalinghe, quanto in questo momento questa testimonianza di un'atleta donna, la prima medaglia d'oro agli Olimpiadi possa essere raccolta anche dalle nuove generazioni. Questo è quello che voglio dire.